E' un lungo, lunghissimo applauso quello che accompagna l'ultimo viaggio di Riccardo Passarotto, 26 anni, campione di pattinaggio e di bodybuilding, per anni colonna dello skating club Rovigo, quindi istruttore della palestra a First Fit Rovigo. Un giovane speciale amato da tutti, che ha trovato la morte in un incidente stradale sulla via di Buso, dove viveva. Era in sella alla moto che aveva comprato da pochi giorni.